Verrà probabilmente esumato oggi il corpo dell'artista Salvador Dalì a ordinarlo un giudice che ha dato ragione a Maria Pilar Abel Martínez, una donna che sostiene di esserne la figlia. L'artista è scomparso il 23 gennaio 1989. Le spoglie sono conservate nel basamento del teatro museo dedicato a Dalì nella città catalana di Figueres. Il comune e la famiglia stanno cercando di bloccare l'operazione affermando che le forze dell'ordine non hanno le autorizzazioni necessarie per rimuovere il blocco da una tonnellata e mezza sotto cui riposa l'artista. In realtà, al di là del desiderio della Martínez, la battaglia legale potrebbe scatenarsi attorno all'eredità e ai diritti che la donna potrebbe accampare. Maria Pilar Abel Martínez, nata nel 1956, sostiene che sua madre, allora domestica di una facoltosa famiglia di Figueres, in vacanza a Cadakes, sul Costa Brava, dove viveva il pittore, avrebbe avuto nell'estate del 1955 una relazione clandestina con Salvador Dalì. L'artista, sin dal 1932, era già sposato con Gala, modella russa e sua musa ispiratrice. La Martínez si è rivolta alla giustizia di Madrid per ottenere che venga riconosciuta la paternità del maestro catalano e ha fatto causa alla fondazione Garadalì e al ministero delle finanze spagnolo, quali eredi legali del pittore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.